Registriamo oggi con una certa soddisfazione che la Procura ha chiesto l'archiviazione per l'imputazione di eccesso di legittima difesa a cui era soggetto. Ci rilegriamo di questo e nello stesso tempo siamo stupiti che ci sia voluto addirittura un anno per capire una cosa talmente evidente a tutti, tutti coloro che hanno vissuto indirettamente questa vicenda particolarmente drammatica e cruenta e cioè che Stacchio ha agito esclusivamente per legittima difesa, la sua ma soprattutto quella di una persona che rischiava in quel momento la sua stessa vita. L'istituto della legittima difesa va comunque riformato nella direzione voluta dalla Lega Nord che ha presentato in questo senso un progetto di legge. Queste cose non devono più succedere, deve essere ampliata lo spazio della legittima difesa e contestualmente ristretto questo istituto dell'eccesso della legittima difesa che in alcuni casi, come proponiamo noi, cioè nei casi in cui uno si difende nella propria casa deve essere assolutamente escluso.